Eccoci qua a Wave Rock, un monolite enorme nel mezzo del deserto a forma di onda. Questa gigantesca roccia per la cultura aborigena del luogo era un punto di incontro e anche di confine delle varie etnie che vivevano in questa zona. Andiamo a esplorarla più da vicino. Ci stiamo avvicinando alla cima, proseguiamo in questa direzione. Andiamo! Eccoci qua, finalmente in cima al monolite. Questo è il punto dove gli aborigeni si incontravano e progettavano i loro viaggi.